Qui siamo nell'agricoltura, contadini, gestione dei campi, del frutteto, del vigneto, si parla anche dell'allevamento degli animali, della mucca, galline, pecore, capre, si parla un po' di tutto, come impiantare gli alberi, i fruttetti, vigneti, come allevarli, come fare gli innesti, come fare le potature, come gestire l'azienda, sono 6 bellissimi, no sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 bellissimi volumi di un'enciclopedia completa che parla tutto quanto inerente all'agricoltura, belli grandi, guardate qua che roba, belli grandi, grossi, lo sfogliamo un po' insieme, parla dell'insalate, falciatrice, delle macchine agricole, il mercato ortofrutticolo, gli alimenti, innesti, potature, i virus, le malattie, che spettacolo, parla di tutto, un'enciclopedia belluovo e le cova, debiti o prestiti, l'alimentazione per il bestiame, uno spettacolo di enciclopedia, 5 volumi, qui parla di porcelli, gli aerei, trattamenti, le malattie, la serra, patata, 60 euro, tutta l'enciclopedia, ciao a tutti.